I cabalettisti sapranno anche fare un pezzo di improvvisazione da trago, vediamo subito! Per me, portatevi dentro, i cabalettisti con un pezzo di improvvisazione, eccoli! Prego, 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 entrate! Prego, mi hanno detto di mettervi come se foste gli angoli di un quadrato qua, nel palco, e abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di quattro oggetti, quindi due davanti gli alternerei un uomo e una donna, ok? E al mio comando questo quadrato potrà scorrere, a destra, orario di uno, così, a destra di un altro, e ogni coppia che verrà davanti dovrà improvvisare una storia, e ogni volta che cambierà la storia andrà avanti e poi sarà ripresa dagli stessi due, saranno sempre davanti. Un oggetto! Sudoku! Sudoku! La partita di Sudoku! E questa è improvvisazione! Senso orario! Un oggetto! La penna! La penna! Un bel regalo! Una penna! Questo sarà il titolo di improvvisazione! Orario! Oggetto! Forchetta! Forchetta! Così, forchetta! Orario! Questa è la fase di preparazione! Oggetto! Francomollo! Francomollo! Non ho più il Francomollo! Il titolo di questo non lo facciamo! Orario! Vi ho già dato voi? Li ripetiamo al volo! La partita di Sudoku! Vai! Seconda! La penna! Un bel regalo! Penna! Avanti di uno! Forchetta! Avanti di uno! Francomollo! Avanti di uno! Sudoku! Stop! No no stop ed iniziamo! Ogni volta che io vi dirò avanti o indietro voi dovrete muovervi! Iniziamo! I caparentisti improvvisano! Vai! Ce l'è? La penna! La matita! La matita! No la penna! Ho la bomba! Ho la bomba! Cazzo lo sento con la bomba! La mattina! Per essere sicuri... Poi ha un po' di saliva! Ok allora dai! Qui c'è il vuoto! Eh che... Eh che... Minchia, aspetta, è una calcolatrice solata. Aspetta, aspetta. Dai, allora, tre più due, ma tre più quanto? Ma lo sai che ha questo gioco? No! Avanti di uno! Amore, per il tuo compleanno, so che ti piacciono tanti i carcellini. So che ti piacciono un sacco gli evidenziatori. E so che ti piacciono un sacco le matite. Sì. Certo. Io, posta? Avanti di uno! Guarda cosa faccio. Ma non si mangia così crentina. Cosa siamo al ristorante di ritreo? No, neanche così, si usano le posate. Che cosa stai mangiando? I spaghetti. Eh, piglia cucchiato. Vai, 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 c'è la pizza. Avanti di uno! Non lo trovo più! E dove l'hai messo? Non lo so, è scappato! È scappato? Sì! E adesso? Non lo so! Ma che cosa le chiamo per farci il viaggio? Avanti, mi dico da no! Un libro, un libro sul sudoku! Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia! Che è? Wikipedia. Ma come si è? I, K, I, P, B, I! Ma che cosa? Vai! Vai! Tu ce l'hai lì! Quante garelli ci sono? Tre orizzontale! Cosa? C'è un numero tre! C'è un numero tre! Indietro di uno! Tu devi saltare di là, eh, no, no, di qua, di là, no, che contello! Così! Mi sento troppo Jim Morrison, adesso faccio una svisata di chitaria. Ma io se non riprendo qualcosa mi calma, cioè... Ma se andiamo cercando tipo ai muri? Ma ce l'hai la coccoina, te? Io indietami uno! Mi siete anche... Ma te, o così? Il cucchiaio! La! Siete di... ok, e cos'è questa? Il sudano! No! Cinque orizzontali! Avanti di due! Questa è parte? Ma è questa! Però io ero di là prima! Sì! Ok, ho imparato così, guarda! E' il bel ecco, l'è che me l'hai sempre fatto bene! Brava! Indietro di uno! E io indietro di là! E dicevo? Caso ti potesse servire in altre occasioni? Indietro di uno! Guarda qua! Avanti di due! Uno! Due! Avanti di due! Avanti! Come un cazzo mangi? Morrato! No! 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 E' chiamale rame! Avanti di uno! Come si fa? Scalma di! Ho preso! Ho preso! E' buono! Questa è la provvissazione! Buona! Grazie! Il bel caglione è fatto a giro! Non c'è un'unica! Ah, allora! Scalma! Allora! C'è pure il fumo! Avanti di uno! Che questa bella dame! Che cucciola a farla? Ho regalato un apparello di tessuto a Frisotti! Avanti di due! Oh! Dov'è sto il poverde? Avanti di uno! Se ce ne ha lo puoi cambiare! Avanti di quattro! Avanti di quattro! Se la vuoi cambiare va a fanculo! Io chiedo... Stop!